guardie mediche chiuse ora il pd muove battaglia un'edilizia che recuperi l'acqua da fano un'innovativa proposta dopo vent'anni d'attesa si realizza la rotatoria delle silicate lavoro stagionale a caccia di un'intesa su stipendi adeguati ai nastri di partenza la diciassettesima scuola per imprenditori buona serata a tutti voi amiche amici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 15 luglio apriamo occupandoci delle recenti proposte di riforma sanitaria a livello regionale che stanno alimentando davvero un acceso dibattito politico fra i punti reputati senza soluzioni dalla riforma continua esserci quello delle guardie mediche soprattutto sul territorio provinciale di pesaro e urbino una perdurante carenza sulla quale il partito democratico provinciale dice basta e invita da oggi i cittadini a partecipare ad una serie di sit in invitiamo tutti i cittadini a mobilitarsi a partecipare alla raccolta firme che attiveremo in tutti i presidi di guardia medica della provincia di pesaro urbino al momento 8 tracchiusi totalmente e parzialmente in tutte le tre vallate perché non è più accettabile la situazione che stiamo vivendo ci stiamo ritrovando con guardie mediche chiuse usca disattivate cioè i medici che visitano i pazienti positivi a domicilio e pronto soccorso intasati perché non hanno più filtro con il risultato che i cittadini che siano persone anziane o famiglie con bambini piccoli in piena notte non sanno più a chi rivolgersi aspetta la politica trovare soluzioni non è accettabile che la giunta acquaroli si giustifichi dicendo che c'è una carenza di medici è vero lo sappiamo benissimo un problema nazionale ma altre regioni lo hanno risolto perché solo nelle marche non riusciamo a trovare la soluzione noi abbiamo anche proposto già da 15 mesi a questa parte lo sto facendo in consiglio regionale anche con degli atti ufficiali quali potrebbero essere le soluzioni ovvero innanzitutto dare dignità ai medici perché le guardie mediche due anni fa c'erano e sono scappate a causa dei contratti umilianti che hanno dovuto accettare quindi molti poi si sono dimessi e sono andati a lavorare in altre sedi i carichi di lavoro sono aumentati e l'accordo integrativo regionale non dà dignità al loro sacrificio e poi soprattutto fare in modo abbattendo l'incompatibilità che i medici in pensione o quelli con più di 650 mutuati possano ancora prestare servizio in questa fase critica di transizione in attesa che arrivino altri medici attualmente impegnati con la specializzazione per cui cerchiamo soluzioni questo che deve fare la politica e ci aspettiamo che la giunta a Cuaroli finalmente si faccia carico della problematica intervenga per risolverla grazie anche alla raccolta firme che attiveremo in questi giorni oggi si parla invece di personale che non c'è più cioè di personale che decide di lasciare la sanità marchigiana per andare a lavorare o nella sanità privata o per andare a lavorare in Emilia Romagna quindi c'è praticamente una fuga dei medici questa fuga dei medici fa sì che i servizi che attualmente che prima c'erano come ad esempio quello delle guardie mediche il servizio dei medici dentro le ambulanze i servizi dei medici nel pronto soccorso sono tutte attività che ovviamente non è che avevano un personale in esuburo ma comunque il personale c'era rispetto a quello che erano le esigenze oggi lo stesso personale decide di licenziarsi dal pubblico e di andare a lavorare da altre parti e questa è la novità probabilmente anche questa riforma ha come dire influisce perché probabilmente i medici stanno capendo che le marche stanno andando in una direzione sbagliata e quindi decidono di andare a lavorare altrove questo è molto preoccupante perché se è vero che come è vero che c'è una carenza di personale medico e in generale sanitario ma se quel poco personale che abbiamo decide di andare a lavorare altrove il problema aumenta e proprio ieri il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini erano a Pesaro ad esporre i benefici per il territorio per quello che riguarda questa nuova riforma ascoltiamoli a tal proposito proprio sul tema della carenza dei medici e delle relative guardie mediche Il territorio provinciale come territorio regionale è oggetto di una mancata programmazione che ha portato ad una carenza di medici in questi anni lei sa che per dare una risposta alle guardie mediche, ai medici di medicina generale occorre programmare dei corsi che formano un numero adeguato noi stiamo facendo il possibile e l'impossibile per adeguare con l'azione della programmazione il numero attuale e futuro dei medici di medicina generale quindi che potranno essere utilizzati anche come guardie medici pensi che in due anni abbiamo sostenuto praticamente 190 borse per i medici di medicina generale in due anni il numero sostenuto da noi è superiore al numero sostenuto nei cinque anni che ci hanno preceduto però è chiaro che questi medici che noi andiamo a formare oggi possono essere utilizzati almeno dopo un anno di corso quindi per capirci i 60 medici che hanno partecipato alle borse lo scorso anno potranno essere utilizzati nel prossimo autunno le 110 borse che andiamo a finanziare quest'anno sperando che con il cambio dei criteri ci sia una decisione totale potranno essere utilizzate il prossimo anno quindi noi con le aziende Asur attualmente in operativa e con tutte le nostre forze stiamo cercando di reperire personale ma è il problema che oggi riguarda le marche e riguarda tutta l'Italia il tema è che il governo con giugno, la fine del mese di giugno ha abolito il servizio delle USCA le unità operative di continuità assistenziale che avevano garantito la visita a domicilio durante i periodi covid nella conferenza delle regioni, non solo le marche, basta che si fa un giro su youtube e si vede le proteste di altri presidenti delle regioni, abbiamo chiesto al governo di garantire questo tipo di servizio in attesa di sapere quali sono le decisioni da parte del governo noi come regione autonomamente abbiamo messo in piedi questo servizio UCA che però non trova l'assenso dei medici perché prima per lo stesso servizio percepivano 40 euro all'ora di trattamento invece con il trattamento previsto dal contratto per i servizi territoriali delle regioni il trattamento è di 23 euro quindi chiaramente questo è un ostacolo insuperabile da parte nostra e quindi anche in questa sede approvvisto della vostra cortesia per chiedere al governo di valutare il ripristino delle USCA tanto più per il fatto che si ritiene che il picco del covid possa arrivare nei prossimi mesi Cambiamo argomento ma è un argomento che abbiamo trattato tanto in questi giorni continua infatti l'emergenza acqua sul territorio e si moltiplicano però anche delle idee per attutire queste emergenze in prospettiva futura una di queste ad esempio arriva da una mozione appena depositata al Consiglio Comunale di Fano che andiamo a scoprire in questo servizio Le piogge continuano a non cadere, i livelli dei fiumi continuano ad abbassarsi si aprono i pozzi, si moltiplicano le ordinanze comunali antispreco E' questo il quadro di una siccità che anche sul territorio provinciale diventa allarmante ordinarietà di ogni estate E allora vanno pensate soluzioni per trattenere e ottimizzare le acque e in questo senso va proprio la mozione depositata in Consiglio Comunale di Fano d'Azione Pi Europa che sul tema acqua nelle ultime settimane ha affrontato un focus a livello provinciale Esiste un'edilizia capace di ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse Serve però una politica che vada incontro a questa innovazione incentivando l'efficientamento idrico Il tema idrico è molto complesso, ci sono diversi metodi per intervenire e superire a questa emergenza nel breve, medio e lungo periodo La nostra mozione è una mozione del Consiglio Comunale quindi va a incidere su quello in cui il Consiglio Comunale ha potere decisionale anche una pubblica amministrazione urbana può ragionare, può incidere quindi noi proponiamo l'incentivazione di un'edilizia virtuosa dal punto di vista idrico ovviamente l'emergenza idrica va ragionata con nuovi invasi con la pulizia degli invasi precedenti, la sistemazione delle reti insomma ci sono una serie di azioni che però sono a livello più territoriale, provinciale e regionale a livello territoriale e urbano si può fare altro, si può incentivare un'edilizia sana, virtuosa se voi pensate che l'acqua che passa nelle nostre condotte è acqua potabile noi andiamo al bagno, tiriamo il water e cosa succede? Buttiamo via 10 litri di acqua potabile, per me è impensabile allora vogliamo incentivare un'edilizia che abbia una gestione dell'acqua più virtuosa quindi magari il recupero delle acque al fine di poi usarle per gli utilizzi meno virtuosi se vogliamo, quindi l'acqua del water non è detto che debba essere potabile questo tipo di tecnologie ci sono da anni, sono state sviluppate sono state sviluppate grazie allo studio che ne hanno fatto paesi che sono sempre stati meno ricchi di acqua dell'Italia perché l'Italia è stata sempre ricca d'acqua adesso abbiamo un'emergenza idrica, abbiamo tecnologie che sono state sviluppate costa costruire in questo modo ecco che l'amministrazione comunale può aiutare a superire a questi costi tramite bonus volumetrici o tramite lo sconto di oneri di urbanizzazione questi sconti e queste premialità erano previste per un'edilizia che rispettasse i canodi del protocollo Itaca a Fano abbiamo levato queste premialità perché dopo 12 anni ormai non erano più all'avanguardia e possiamo introdurne di nuove per appunto migliorare quelle che è la gestione dell'acqua perché ricordiamoci che l'acqua è il bene più prezioso che abbiamo a partire da domani sabato 16 luglio il dispositivo di soccorso ordinario dei vigili del fuoco nella provincia di Pesaro Urbino sarà potenziato con un direttore delle operazioni di spegnimento e due squadre di soccorso aggiuntive espressamente dedicate alla lotta agli incendi boschivi ognuna delle due squadre sarà composta da 5 unità e dotata di donne e automezzi e attrezzature la prima squadra sarà a Pesaro a protezione del San Bartolo la seconda sarà invece dislocata nell'entroterra a protezione del restante territorio il potenziamento è stato reso possibile grazie ad una convenzione tra Regione Marche e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sopralluoghi oggi a Pesaro studi che da settembre ospiterà la Dante Alighieri e i corsi delle università di Urbino e Ancona grazie infatti ad un accordo con l'IMS che è proprietario dell'immobile l'edificio verrà riaperto accogliendo temporaneamente sia i ragazzi della scuola media di Soria che gli universitari con sede a Pesaro gli interventi in corso riguardano l'adeguamento dell'impianto alle normative esistenti e la suddivisione degli spazi in base alle rispettive esigenze di scuola e università una parte della struttura sarà infatti dedicata esclusivamente agli alunni e professori della Dante Alighieri e l'entrata sarà quella del lato Fano di Viale Trieste classi e uffici si svilupperanno nell'ala sud del piano terra e al primo piano mentre per quello che riguarda i corsi universitari verranno riservate le aule al piano terra e l'accesso sarà quello da Viale Trieste lato nord e dunque abbiamo parlato del ripristino di un'area dedicata all'istruzione dismessa da circa una quindicina d'anni e ora passiamo ad un altro intervento di sicurezza stradale atteso da altrettanto tempo ANAS ha apparecchiato il cantiere per la realizzazione della maxirotatoria sul valico delle siligate sono lavori che danno il via ad un'operazione di sicurezza stradale attesa da quasi vent'anni soprattutto dal quartiere San Bartolo che all'epoca iniziò con una raccolta firme questa battaglia di regolamentazione del traffico sull'arteria di collegamento fra Pesaro, Gabiccemare e Gradara teatro di troppi gravi incidenti un percorso lungo che ora si concretizza con un maxi investimento di 900.000 euro di ANAS ai quali si aggiungono 40.000 di espropri del comune che meno di un mese fa ha dato l'ok definitivo alla delibera fulcro dei lavori sarà il rondò che armonizzerà la strada al vivo per salire sul San Bartolo verso Fiorenzuola di Focara in questi primi giorni si lavora sulla parte marginale della careggiata senza ostacolare il traffico veicolare estivo l'obiettivo è quello di tentare di completare l'opera a gennaio 2023 un'opera che non vuole essere un punto d'arrivo ma piuttosto essere inglobata in un ripensamento della strada che comprenderà anche il futuro passaggio della ciclovia adriatica parliamo di lavoro stagionale perché domanda e offerta non si incontrano anche nel nostro territorio è stata questa la domanda al centro della tavola rotonda che si è tenuta ieri sera organizzata dalla CGL Pesaro e Urbino vediamo in questo servizio quali risposte sono emerse da questo interrogativo la Filcams CGL ha messo attorno al tavolo del Gra di Palazzo Gradari i soggetti coinvolti nella partita del lavoro stagionale negli ambiti di turismo e ristorazione della provincia di Pesaro Urbino sindacati che hanno ospitato associazioni di categoria e il sindaco Ricci in un'apertura di dialogo davanti al quesito del perché domanda e offerta continuano a trovare complicate convergenze fra datori di lavoro che lamentano la mancanza di mandopera e personale lavorativo stagionale che lamenta salari minimi ai limiti dello sfruttamento il primo problema è la capacità retributiva nel senso che ovviamente pensare che non ci siano forze lavoro sufficienti per poter andare a essere impiegati in questi settori è motivato prevalentemente dal fatto che soprattutto nel lavoro stagionale in questi settori si scarica prevalentemente il lavoro precario di questa provincia e soprattutto c'è un tema retributivo non facciamo mistero che dal punto di vista dell'applicazione dei contratti dal punto di vista della diffusione del part time involontario e dal punto di vista anche del lavoro grigio sono settori questi dove purtroppo anche nella nostra provincia rileviamo una diffusa presenza di questi fenomeni Innanzitutto è importante mettere tutti gli attori intorno a un tavolo e quindi provare a parlare insieme di quello che devono essere e potranno essere le prospettive per la crescita del settore in uno sviluppo però sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma per quanto ci riguarda dal punto di vista sociale e quindi parlando di lavoro del quale non parla mai nessuno e di qualità del lavoro nel turismo quindi lavoro di qualità, regolare, professionalizzante, sicuro e con percorsi anche di formazione continua I due anni di pandemia hanno notevolmente stravolto il mercato del lavoro è chiaro che le difficoltà per le imprese nel reperire personale sono evidenti e questo deriva da molti fattori da una parte ovviamente non possiamo che ribadirlo anche le difficoltà nel poter garantire un lavoro più duraturo più stabile perché comunque c'è una grossa incertezza e quindi di conseguenza una crisi soprattutto energetica che comporta una difficoltà maggiore per le imprese e dall'altro ovviamente ci sono misure anche come il reddito di cittadinanza che dal nostro punto di vista andrebbero riviste per lo meno per cercare di andare incontro alle esigenze sia dei lavoratori che delle imprese noi come Confesercenti siamo impegnati da diverso tempo nella rivisitazione del contratto collettivo nazionale però è chiaro che in questo momento se il governo non mette mano al cuneo fiscale quindi cerca di ridurre un pochino il costo per l'impresa è molto difficile per le attività imprenditoriali soprattutto nel settore del commercio, del turismo, dei servizi poter garantire degli aumenti di salario il tema è che c'è effettivamente una carenza di personale non solo nel turismo, non solo nella ristorazione è cambiato il mondo nel turismo fino a pochi anni fa soprattutto nel turismo stagionale c'era la volontà da parte dei giovani ma anche di meno giovani di fare la cosiddetta stagione che potrebbe essere anche un'esperienza per avvicinarsi al mondo del lavoro oggi forse per la scuola, forse per le famiglie forse per un nuovo modo di intendere la vita purtroppo questa esperienza nel mondo del turismo stagionale non si fa la gente preferisce fare la spiaggia divertirsi in un mondo come quello del turismo dove si lavora invece quando la gente si diverte perché ricordo che nella ristorazione e nel turismo si lavora il sabato, la domenica si lavora la sera e purtroppo molte delle problematiche che abbiamo nel nostro settore derivano proprio da richieste da parte di persone che vengono nei nostri locali per chiedere lavoro ma dicono non vogliamo lavorare la sera non vogliamo lavorare la sabato non vogliamo lavorare la domenica cosa che ovviamente è incompatibile con il nostro mondo e allora bisogna che cominciamo un percorso di se vogliamo dire educazione partendo dalle famiglie e partendo dalla scuola soprattutto dalle scuole professionali ma non solo facendo capire il valore del lavoro il valore anche di esperienze lavorative che ti introducono al mondo del lavoro quando uno avrà completato il percorso degli studi e restiamo sempre in ambito lavorativo occupazionale perché oggi le nostre telecamere si sono accese ad Ancona in occasione della presentazione della 17esima scuola per imprenditori di Confartigianato Ancona-Peso Rubino e dell'Università Politecnica delle Marche una tematica che approfondiremo martedì 19 luglio alle ore 21.20 in uno speciale che abbiamo realizzato però intanto vi forniamo già qualche anticipazione nel servizio appena realizzato dal nostro Edoardo Razzi Amici e amiche di Rossini TV oggi ci troviamo davanti al centro direzionale della Confartigianato ad Ancona per la presentazione della 17esima edizione della scuola per imprenditori un progetto nato dalla collaborazione tra Confartigianato Ancona-Peso Rubino l'Università Politecnica delle Marche e la società Confidi Unico l'obiettivo della scuola di imprenditori di Confartigianato in Presa Ancona-Peso Rubino è quella di essere uno strumento utile ai nostri imprenditori per competere in un contesto complesso 17 anni di scuola di imprenditori ci danno una grande forza un grande onore ma è un onere importante cercare di presagire il cambiamento quindi oggi presentiamo questa scuola sapendo purtroppo come Confartigianato che a settembre ci sarà un contesto molto complesso noi allo scorso anno a ottobre abbiamo evidenziato come il tema dell'energia quando nessuno ne parlava sarebbe diventato un tema centrale oggi lo è è diventato molto complesso quindi abbiamo ipotizzato di strutturare questa scuola permettendo ai nostri imprenditori di acquisire nuovi strumenti per gestire al massimo il controllo della propria azienda e crediamo che oggi questa sia la sfida che dobbiamo tutti noi portare avanti oggi più di ieri già lo stiamo facendo molti nostri imprenditori si sono strutturati ma noi dobbiamo come istituzione delle imprese come Confartigianato cercare di essere attenti a fornire strumenti e abbiamo questa consapevolezza è una scuola che da 17 anni offre grandi opportunità più di 200 imprenditori hanno partecipato a quella dello scorso anno e crediamo che oggi più di ieri dobbiamo offrire questo strumento assolutamente gratuito per i nostri associati ma che possa permettere ai nostri imprenditori di superare anche questa ennesima sfida di questa epoca il percorso formativo sarà articolato su sette lezioni che si svolgeranno da settembre, ottobre e novembre saranno in presenza ma per chi proprio non potrà essere qui in sede ci sarà la possibilità di seguirle online per quanto riguarda l'iscrizione è molto facile basta andare sul nostro sito www.confartigianatoimprese.net oppure chiamare il numero verde 822 9310 l'approccio deve essere operativo credo che lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni parlo dell'università sia stato quello di apprendere perché quando si interviene sul sistema di piccole imprese bisogna anche utilizzare metodologie e linguaggi che non sono quelli presi dalla multinazionale e adattati perché non funziona quindi bisogna invece al contrario utilizzare e sviluppare modelli ad hoc in maniera molto operativa Dopo Pesaro anche a Fano è stato siglato oggi il protocollo d'intesa tra le procuratori della Repubblica Cristina Te Teschini il sindaco Massimo Seri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Enrico Blandini si tratta di un'intesa finalizzata al rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi pubblici in merito ai fondi in arrivo dalle PNRR una sinergia e un flusso di informazioni che migliorerà la vigilanza contro frodi e illeciti Continuano ad abbellirsi all'insegna dei murales i sottopassaggi urbani di Pesaro l'associazione reperti urbani ha in tal senso realizzato nell'area del San Decenzio un progetto che evoca forme, colori e le suggestioni della falese del San Bartolo raccolte appunto in un'opera murale collettiva è partito oggi l'Ulisse Festile primo festival dei viaggi della guida all'Only Planet a Pesaro all'insegna di tanti incontri ma anche di musica proprio questa sera alle 22.30 in Piazza del Popolo si esibirà Goran Bregovic nell'atteso concerto di folk balcani con ritmi sfrenati e sonorità che nascono dalle melting pot di Sarajevo Bregovic torna dunque in Italia accompagnato dalla sua wedding e funeral band per una grande festa in musica domani invece sempre alle 22.30 si esibiranno gli Africa Unite che presenteranno il nuovo album in occasione del quarantesimo anniversario della band e concludiamo il nostro telegiornale con altra musica quella che ha visto nella piazza della Madonna di Loreto il concerto dell'amicizia diretto da Riccardo Muti con un ricco programma di musica sacra dalla brillante esecuzione da parte dei cherubini del Magnifica di Vivaldi allo Stabat Mater et Edeum di Verdi oltre a brani di compositori ucraini contemporanei eseguiti a cappella da uno spettacolare coro proveniente da Chieve conclusione del concerto a sorpresa con l'esecuzione dell'Ave Verem Corpus di Mozart con un coro di 100 bambini che hanno accompagnato il simulacro della Madonnina di Loreto il concerto in questione sarà anche trasmesso il 6 agosto su Rai Cultura nella platea ha numerose autorità presenti tra cui il presidente e vicepresidente della regione Acquaroli e Carloni il sindaco di Loreto Pieroni il prefetto di Pesero Ricciardi i rettori dell'università di Ancona e Urbino Gregorio Calcagnini e il presidente del conservatorio Rossini Salvatore Giordano Salvatore Giordano la nostra edizione delle telegiornale Rossini News ora prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che alle 21.20 questa sera vi propone Notte in Moda 2022 si tratta di una grande serata in moda che si è tenuta nei giorni scorsi all'Anfiteatro Rastat di Fano che potrete appunto vedere questa sera e poi in replica domenica alle 14.30 e anche sabato 23 luglio alle ore 19 e poi venerdì è la serata di Vox Pop la voce dei pesaresi per chi si fosse perso la prima edizione delle 19 poco male perché ci sono poi le repliche a cominciare da questa sera alle 22.30 la nostra Letizia Moretti questa volta è andata a sentire alcuni commercianti pesaresi che si allinano alla novità del POS obbligatorio dunque appuntamento anche questa sera alle 22.30 e poi nelle repliche che vedete in grafica sabato, domenica, lunedì e martedì e poi vi ricordiamo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 come sempre in diretta con la nostra segna stampa Buongiorno Rossini che per l'occasione sarà condotta dal nostro Marco Cadeddu informazione però anche nel weekend ve lo ricordiamo le notizie principali più importanti che vedete in settimana durante le nostre edizioni di Rossini News le potrete riscoprire su Rossini News Week un nostro format che raccoglie appunto queste notizie che potete apprezzare domani alle 19.30 e domenica con tre edizioni alle 6.30 di mattina alle 12.30 e alle 22 e poi vi ricordiamo anche Pesce Azzurro Quiz Show questo nostro divertente format stiano mandando in onda le repliche di questa prima edizione che ve lo ricordiamo va in onda tutti i martedì e i giovedì alle 19 e poi ci sono varie repliche compresa quella di questa domenica che comprende due puntate quella del martedì e quella del giovedì accorpate insieme a partire dalle 20.30 e ancora domenica come tutte le domeniche alle 21.30 vi proporremo le stelle continueranno a brillare Pesero negli anni fra il 1935 e 1945 dunque appuntamento questa domenica alle 21.30 e poi la replica martedì alle ore 15 e con questi appuntamenti si conclude qui questa nostra edizione di Rossini News da parte mia di tutta la relazione vi auguro una buona serata vi ringrazio per averci seguito e vi auguro anche un felice weekend e vi auguro